Ieri sera il coprifuoco dalle ore 22 come nel resto d'Italia. Da questa mattina alle 8.30 un'ulteriore stretta sulla città di Salerno con la chiusura di tutto il lungomare da Piazza della Concordia alla spiaggia di Santa Teresa, compresa la villa comunale. Ci sono nastri bianco-rossi, quelli definiti California, a far comprendere e a sigillare tutta l'area del lungomare per il passeggio che per questo weekend, ma anche per i prossimi fino al 3 dicembre, porterà alla chiusura dalle 8.30 del mattino del sabato fino alle ore 5 del lunedì. I vigili urbani di Salerno di Buonora hanno predisposto la chiusura così come stabilito dall'ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che è stato tra i primi a recepire l'invito lanciato dal governatore De Luca. Si tratta delle prime interdizioni applicate in città, detto stamani il primo cittadino, effettuando un sopralluogo sul lungomare che non ha escluso, dopo questo primo weekend, anche ulteriori chiusure. Dettaglio da non trascurare e non escludere perché stamani, se il lungomare si è mostrato vuoto con la sola presenza di pattuglie di vigili urbani e camionette dell'esercito, il corso Vittorio Emanuele ha fatto registrare invece un consistente afflusso di gente. Tante persone un po' ovunque, così come nei parchi, in primis al parco del Mercatello e al parco Pinocchio, d'altronde una splendida giornata di sole non faceva pensare che le persone rimanessero a casa. Ma c'è di più, il sindaco Vincenzo Napoli non esclude ulteriori chiusure di piazze che nelle ore serali fanno altrettanto registrare assembramenti. Sono delle interdizioni dolorose perché sembra bizzarro che non si possa passeggiare sulla via lungomare in una giornata radiosa. Purtroppo il dato dell'epidemia ci consiglia comportamenti severi, comportamenti categorici. Abbiamo chiuso via lungomare e villa comunale, se serve chiuderemo altri luoghi, magari quelli deputati alla Movida, verificheremo questa sera che succede, e se serve chiuderemo anche altri luoghi. La spiaggia di Santa Teresa è famosa per la sua bellezza, ma è famosa anche per il suo assembramento. Un affollamento da muro umano, muro umano sul lungomare. Con queste temperie non mi sembra il caso. Allora Salerno ha dei dati relativamente rassicuranti, relativamente lo sottolineo cento volte, perché si può modificare da un momento all'altro in un modo catastrofico la curva del contagio. Un dato è certo che noi fino al 3 novembre avevamo, mi pare, 6 contagi. Dal 3 novembre ad oggi altri 21 contagi, mi pare. Insomma, voglio dire, siamo arrivati a 47 contagi. Ora purtroppo non c'è il foglietto sotto mano. Siamo arrivati a 47 contagi nell'arco di 5-6 giorni. Sindaco, questa è un'ordinanza che vuole essere un appello proprio al senso di responsabilità delle persone. Il lungomare è una chiusura simbolica, ma potrebbero seguire anche altre chiusure. Molti pensano al parco del Mercatello, al parco del Pinocchio. Insomma, queste sono zone dove potrebbero crearsi assembramenti ed è quello che in questo momento non bisogna fare. Assolutamente sì. Io ricordavo la spiaggia qui di Santa Teresa, bella, bellissima, super affollata. Di giovani e giovanissimi che per temperamento, per età, per condizione anagrafica sono poco propensi alla responsabilizzazione perché immaginano, come me lo immaginavo io alla loro età, di essere imbortale. Il problema è che magari non mi ammalo, divendo positivo, asintomatico, infetto la mia famiglia, infetto i familiari, il prossimo. Allora, questa è una chiusura più che simbolica, una chiusura concreta. Se serve chiuderemo altre location. Se non scatta questa consapevolezza, per fortuna è scattata, se non scatta questa consapevolezza non ci sarà esercito, Tupamaros, Marines o quant'altro che potranno tenere sotto controllo tutto. Noi siamo una democrazia e i nostri comportamenti si fondano sulla consapevolezza dei concittadini, dei cittadini. Chiaramente il momento repressivo è indispensabile laddove necessario, ma deve essere l'estrema razio. Io sono certo che i cittadini di Salerno comprenderanno e vorranno collaborare con quanti tentano di mantenere sotto controllo un contagio che altrimenti potrebbe essere rovinoso.